Musica Scavando in profondità Non penso che lasciarsi indietro quell'albamento facesse parte del piano No, non credo neanche io Quindi dobbiamo aspettarci Bravi, entrate allora Oh, eccoci di nuovo qua Co... Ecco Stavo per dire, comunque Bello Come design è fighissimo Comunque, la cosa lì di vedere Allora, qua non me lo fa vedere, vediamo Di qua magari Ok, danno da infliggere Che l'altra volta non abbiamo fatto Però non ci fa vedere quanto danno da infliggere In sostanza, alterna un po' gli uni e gli altri Fai tutti e due gli obiettivi Vabbè, andiamo con Mr. Incredible Comunque Comunque Il nemico Madonna mia che colpo incredibile che gli ho tirato Il nemico come design E a me piace Le tue creature meccaniche Le tue creature meccaniche adesso la spingo di sotto No, non posso spingere di sotto a meno che ecco A meno che non vola Aia Dai Ok Madonna mia Sta zona qui lagga un sacco Sta zona qui è rallentata Vieni qui Ho già provato Prima ad abbassare le impostazioni Però è sta zona Siberio? Qua Che cavolo Fate pure lanciare le granate in faccia No, no, no Ma mi raccomando Non ti muovere Vai Creiamo il ponte Perché vedi In questa parte qua Quando crea le cose Fa gli attacchi Va tranquillo Anche le animazioni del Del contorno Funzionano bene E quando ci sono tutti i nemici Del tizio là PUSH 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 Spara che Che il gioco inizia un po' a Calare Comunque Incredible È salito di livello Io Continuerei con i pugni Visto che sono il danno più base che facciamo Tipo con Siberio Poi aumenterei questo Aumenterei questo Che secondo me fa un sacco di danno Ma Non c'è differenza Fra questo e questo No Allora cambiamo Becca di questo Siberio Allora calmi tutti Perché poi lui non si sposta Lui Con i missili non si sposta Rimane lì Si fa colpire Tanto è fatto di ghiaccio Che gli frega a lui Vai Tocca a te Madonna No, no, no È proprio Quando appaiono tutti questi nemici Con tutte le animazioni Il gioco inizia A crepare Guarda Si è appena lasciato indietro Per un posto No, ma ti prego Dimmelo Un po' più lento Ecco fatto Aspetta Facciamo una cosa Ok Ho provato ad abbassare 720 È proprio la zona Che fa schifo È proprio questa zona Cioè non è la qualità Del video La mia scheda Perché Cavolo Per tenere su un gioco Nella PS2 Non è che ci vuole Chissà cosa Di incredibile Però cavolo Certo che sta zona qui Una bomboniera di pugni Tutta per me Una bomboniera di perno Arco al viaggio Pegati questo Ecco fatto Madonna mia Sta zona è terribile Io mi chiedo Su PS2 Come fosse sta zona E secondo me Era anche peggio Su PS2 Sta zona Secondo me Era peggio Che qua Cioè peggio che su computer Veramente Già l'emulatore In teoria Dovrebbe migliorare La situazione Pegati questo Congelare E poi colpire Madonna mia La tattica più Facile Per distruggere Tutti i nemici Ma oggetti segreti In questa zona Niente Vabbè Tocca a te Siberio Vai Allora Numero 1 Andato Andato Così Sollevamento Mister Incredible Vai Ehi Ah ok Tieni premuto Scusami Nell'altro gioco Era continuo a premere Quindi ero abituato così Scegli qua Aspetta 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 Sta zona Qui È terribile Ora voi Ora non avete Proprio capito La lezione Eh no Mi sa che non L'hanno proprio Capita Non hanno capito Che se Che rimbalzo Che si è fatto Non l'hanno capito Che se Gli lancio Una cassa Questi volano Da qua In Siberia Letteralmente Oh ma Siberia Mi raccomando Non combattere Non fare nulla Mi segue Sta lì Guarda Lui Aia Allora Aspetta Madonna mia È veramente Era così terribile Anche su PlayStation Sta zona Veramente No io chiedo Perché La cosa Non mi sorprenderebbe Io mi ricordo Di alcuni giochi Che Erano veramente Terribili In alcune zone Donna mia Donna mia Guarda Cioè Devo abbassare Veramente Le impostazioni E non è che Cambia più di tanto La situazione Eh Ponte di ghiaccio Eh Ponte di ghiaccio Devo trovare Un terreno Stabile Se non vuoi Che si sguagli Aspetta Dai Perfetto Ok Prima che mi arrivasse In faccia È terribile E che cosa Gli lancio Addosso Non ci sono Casse Non c'è niente Che puoi da me Prendi qualcosa Se l'acceglielo Addosso Madonna mia Cara Ok Vai Prima che Ecco Fatto Sbrigiamoci Ahia Ecco fatto Oh Cosa stanno facendo Perché stanno facendo Un pentagono Questi due Ma stai zitto E cadi di sotto Ecco fatto Madonna mia Stanno facendo Un pentagono Per qualche motivo Mentre Siamo A mezz'è Per distruggere Parti Il terreno Ah beh Se non hai tempo Tu scusaci Allora Guarda Se vuoi Andiamo via Allora Oh ma segreti Sta zona Io non ne vedo Perché vedi Quando non ci sono nemici Questa zona è pulita E' veramente tranquilla Il problema E' quando arrivano i nemici Diventa terribile Allora è giusto Come facciamo a seguirlo Ci deve essere un modo Per attraversare Per continuare Il prossimo L'altro Non dovrà pure essercene Eccolo là L'ho trovato Aspetta Ecco Una gradita sorpresa Sì Un barattolo Pieno di cose Madonna mia Che colpo Allora Andiamo di qua Ecco fatto Vai Siberio E vai E vai Grazie Scogliattolo Della Vigorsol Allora Aspetta Visto che tanto Aia che male Ah così È vero Stavo dicendo Come si fanno I colpi incredibili Così Beh Devo dire Che il colpo Incredibile È stato È stato veramente Forte No Aspetta Ecco fatto Ma guarda che Quante megalomane Seppure la Statua che gira Di se stesso Andiamo con Siberio Visto che È un po' indietro Con i colpi Anche perché Tocca a lui Congelare questo Fermateli e fatene Poltiglia Questa deve essere Fermateli e fatene Polpette Ah certo Come no Oh calmo Allora Prima di tutto Beccati questo Tu Devo dire Che l'intelligenza Artificiale Lascia Un filo A desiderare Che sta facendo Combattevano fra di Allora Hai rotto le balle Vai via Ecco fatto Uno E due Dicevo Vieni qua Tu Resta lì Eh resta lì Scusami Sono sotto Ghiaccio Ecco fatto Dai piano piano Stiamo andando in pari Con entrambi Ma col cavolo Che Oh ma Sto minatore Sembra tanto Scemo scemo Però Portatemi i loro Corpi Per metterli Sul mio trono Non mica È una cosa Tanto carina Da dire Ok Che poi ha detto Usa L1 R1 Per fare la Supermossa Perché avrei dovuto Sprecare la Supermossa Per due Nemici Delle Valle Ah beh Scusami Allora Ok Perfetto Allora Calmi tutti Io Non ho le mosse Incredibili Perché ovviamente Le ho consumate Allora 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 Ripeto Sto minatore Sembra tanto scemo Però Sto dicendo Delle cose Terribili Guarda che sti Robi Sono più scemi Davvero Ecco fatto Sta dicendo Delle cose Terribili Sto minatore Oh Via da qua Dai che cade Ecco fatto Ok Ci siamo Perché il minatore Non voglia più Giocare No Davvero ci sottovaluta Se pensa di potersene Andare via Non è passata attraverso Il muro L'ho visto Un'altra livella Ha fatto Attraverso il muro E questo Che tiamine Quella cosa Sembra progettata Allo scopo Di ribaltare Il pianeta Dobbiamo fermare Il minatore Come l'avete capito Da un visiogramma Scusami È la causa Di quello Che sta accadendo Dobbiamo eliminarlo Al più presto Prima sistemiamo Il magnomizzatore E poi Occupiamoci Del minatore Possiamo prendere Una scorciatoia Attraverso L'impianto Di deturpazione Sembra una specie Di sistema Per il pompaggio Di melma tossica Da uno Degli impianti Minori Si spuca Vicino al magnomizzatore Che cosa Stiamo aspettando Andiamo Scena Missione completata E guadagnato 500 punti Danno da schivata Che cazzo è Il danno Da pattinata E da schivata Scusami Come incomple Ma che palle Ma se almeno Ti facesse vedere Quando devi uccidere Con chi E quanto Devi uccidere Con chi Porca miseria Almeno uno Lo saprebbe Comunque Come si fa Allora Premium No aspetta Questo è lo schianto Questo è il lancio Anche se hai tutti questi poteri Ti sconfiggerò Comunque Questa è la super mossa Io Butterei sulla super mossa Però anche questo È Allora A Siberia Questo A Siberia Questo È incredibile Facciamo la super mossa Ciao Ciao Grazie a tutti.